Amici di Cittadiariano benvenuti a una nuova puntata di 15 minuti con oggi abbiamo il piacere di ospitare l'avvocato Mario Iurio candidato a sindaco per il Movimento 5 Stelle. Avvocato lei non è mai stato impegnato attivamente in politica prima d'ora adesso è candidato a sindaco di Ariano col Movimento 5 Stelle. Qual è stato il motivo che l'ha spinta a impegnarsi direttamente? Una mutata visione della politica, un fatto, un evento particolare? Allora già ho ribadito nell'apertura della campagna elettorale io sono stato prestato alla politica non nasco come uomo politico non sono un animale politico sicuramente ma sono un libero professionista, una persona che è vicina alle esigenze della gente e credo che il Movimento 5 Stelle rappresenti ciò che un cittadino vorrebbe da un'amministrazione cioè un'amministrazione trasparente, corretta, pulita, senza forme di clientelismo, diversificazione, un'amministrazione che metta al centro di ogni argomento l'individuo, la persona appunto nella sua identità ontologica, proprio nella sua essenza e anche nella sua identità anagrafica cioè bisogna parlare dei cittadini che abbiano nome e cognome. Bisogna fare in modo che l'amministrazione sia sempre più presente nella vita dei cittadini che nell'ultimo ventennio ma probabilmente ci potremmo spostare ancora più indietro nel passato è stata letteralmente come dire divisa dal clientelismo imperante a vantaggio di poche categorie a discapito della maggior parte delle persone. Lei contesta l'amministrazione uscente sia sul piano del metodo quando evocando uno scenario neofeudale parla di vassallaggio sia nel merito per quanto riguarda le cose che sono state fatte oppure non sono stato fatte. Ecco vorrei che sviluppasse questi due punti. Sì, il problema del vassallaggio è un'espressione che è usata, stante anche le nostre origini diciamo legate al medioevo e al fedalesimo. A distanza di centinaia di anni notiamo che l'atteggiamento e il comportamento di chi ci amministra non fa altro che prendere spunto da tutto ciò che avveniva diciamo appunto nel medioevo. Si è creata una classe dirigente che spesso invece di guardare le proprie capacità, le proprie competenze professionali è stata messa lì solo perché in qualche modo riusciva a captare il consenso delle persone e determinare in maniera duratura la presenza diciamo nell'ambito politico, in tutto ciò che rappresenta un po' quindi io ho fatto anche un, come dire, in campagna elettorale e nell'apertura ho fatto una disamina di quello che era avvenuto già nel 1140 con Ruggero II, con le assiste di Ariano che furono fatte proprio nella zona di Camporeale perché il re si era reso conto che la gestione del patrimonio avveniva, oramai era diventata una questione di natura personalistica, non si perdeva la morte del feudatario, ma questo diritto veniva trasferito addirittura ai parenti. Tutto ciò venne disciplinato in parte anche dall'assise e dovette intervenire proprio perché la gente, il popolo, subiva le conseguenze di questa attribuzione univoca di proprietà nei confronti sempre delle stesse persone. Questo fenomeno in maniera paradossale dopo circa 900 anni si è riverberato, si è ricreato all'interno della nostra società. Una società appunto che hanno anche individuato come la persona che pone la questione morale sta soffrendo di questa situazione perché non vede un futuro, non vede una speranza, vede soltanto l'interesse a doversi collocare in un orientamento politico, loro lo chiamano civismo, per me è un grande cinismo, scusatemi il gioco di parole, ma abbiamo a che fare con atteggiamenti beffardi, ironici nei confronti della popolazione senza fare niente che possa in qualche modo vede rincontrare le esigenze dei cittadini. Quali gli scenari possibili se si dovesse andare al ballottaggio? Siamo convinti, quasi certi, che andremo al ballottaggio. Il Movimento 5 Stelle è un movimento che comunque va da solo. In ogni caso qualsiasi tipo di apparentamento attualmente non è preso assolutamente in considerazione. Andiamo passo dopo passo avanti, consapevoli della forza che il Movimento assume e sta assumendo sempre di più nell'ambito della campagna elettorale e quindi attualmente non possiamo dare alcun tipo di indicazione circa eventuali disponibilità a forme di apparentamento con chi che sia. A questo punto vorrei chiarisse la sua idea di Europa. Lei è un sovranista o un europeista? Allora, farei una distinzione. I sovranisti sono contro il vento della storia. Sono legati a un concetto di Europa, cioè non hanno il concetto di Europa. Sicuramente ciò che alligna è una grande forma di demagogia. Gli europeisti invece vedono, come dire, l'Europa come un grande contenitore dove la fratellanza, l'uguaglianza, il rispetto e la toleranza tra i popoli dovrebbe farla da padrone. Tutto ciò non avviene perché effettivamente l'Europa la vediamo figlia delle banche, dell'affarismo, delle finanziarie. Non hanno questa fratellanza che loro in qualche modo caldeggiano e soltanto nelle parole. Ma nei fatti notiamo una grossa discrasia tra quelli che comandano la Germania in modo particolare e gli altri che devono sopportare e assecondare i capricci di questa nazione che oramai da anni fa da padrone all'interno dell'Europa. Noi siamo parte del bacino del Mediterraneo, siamo vicini a quegli stati che hanno più bisogno, non ultimo la Grecia, e come ci poniamo in maniera, come dire, di grande disponibilità nei confronti dei cittadini, così facciamo anche nei confronti degli stati che noi riteriamo più deboli. Può tracciare le caratteristiche dei suoi candidati e i parametri in base a cui è stata operata la selezione. Allora innanzitutto i candidati sono stati individuati per competenza, professionalità, per specchiata moralità. Abbiamo cercato di prendere i candidati nella società civile cercando di rappresentare tutti gli aspetti della società. Quindi ci troviamo all'interno della lista con diversi avvocati, commercialisti, abbiamo un medico, un ottimo professionista, abbiamo persone che praticamente esercitano la loro attività nei sindacati, abbiamo dipendenti della pubblica amministrazione, operai. Quindi diciamo che abbiamo cercato di coprire un po' tutti quelli che sono gli aspetti della classe sociale arianese. Veniamo al programma. Quali sono le priorità? Guardi, oramai le priorità sono di vedere delle emergenze, perché Ariano è una situazione emergenziale un po' in tanti aspetti della sua realtà. Sicuramente abbiamo il problema dell'inquinamento, abbiamo un problema legato alla salute, quindi l'ospedale, abbiamo il problema del lavoro, il problema delle infrastrutture. Sono tutti aspetti che in qualche modo sono strettamente correlati l'uno con l'altro. Quindi dovremmo iniziare a collegare tutte le varie questioni e a sciorinarle volta per volta, perché all'interno di ogni questione sicuramente le troveremo delle altre da affrontare. È una sorta di scatola cinese. Quindi il lavoro sarà veramente certosino. Certo è che dovremmo guardare nella complessità tutti questi problemi e affrontarli uno per uno. Un punto fondamentale emerso proprio durante la presentazione della sua candidatura è rappresentato dalla progettazione europea. Come verranno utilizzati i fondi europei? Allora dicevo, i fondi europei sono l'infa vitale per il Paese. Il Paese ha bisogno di comunque avere delle ulteriori risorse finanziarie per poter gestire parte di quelle questioni, affrontare quelle questioni di cui abbiamo parlato nella domanda precedente. La verità è che il nostro comune è stato latitante per quanto riguarda la questione dei fondi europei. Non è in grado di saperli, non li sa gestire ma soprattutto non sa captare questi fondi a livello europeo. Noi ne abbiamo in un ultimo periodo ne sono stati persi circa tre proprio perché sono stati dichiarati addirittura due inammissibili non avendo rispettato tutti i crisi mi richiesti per poter accedere all'utilizzo di questi fondi europei. La verità è che il Movimento 5 Stelle ha una grande e specifica preparazione avendo una serie di persone competenti, consulenti che riusciranno in qualche modo a organizzare la gestione di questi fondi europei. Noi abbiamo un professore universitario, il dottor De Angelis, sindaco di Chiusano San Domenico e assessore del Comune di Avellino ed era proprio, come dire, la sua funzione era deputata alla gestione dei fondi europei. È riuscito a far arrivare diversi milioni di euro al Comune di Avellino e anche a Chiusano San Domenico, questo piccolo Comune che aveva addirittura il distesto, è riuscito a sanare il distesto e addirittura si trovano con un surplus di cassa. Questo per farvi capire che effettivamente laddove esiste la competenza, laddove esiste la capacità di gestire queste risorse, sicuramente diventa un valore aggiunto per il Paese. Due temi caldi di questa campagna elettorale a cui lei già faceva riferimento prima sono sicuramente il traffico di cardito e la manna camporeale, le infrastrutture. Secondo lei come si risolve il problema del traffico di cardito? È favorevole alla realizzazione della manna camporeale e soprattutto come si conciliano le esigenze di sviluppo di una comunità che passano per la realizzazione di infrastrutture e la salvaguardia dell'ambiente? Sì, bella domanda. Il traffico di cardito oramai è diventato un problema annoso, un mantra che si ripete quotidianamente ogni volta bisogna entrare e uscire dal Paese. Qualche soluzione è stata tentata dal nostro sindaco uscente il quale ha ricoperto anche la funzione di presidente della provincia e avvocando a sé queste due posizioni dirigenziali, chiamiamole così, avrebbe potuto porre rimedio una volta per tutte a questa vicenda. Sono stati distanziati tanti soldi, oltre 30 miliardi, anzi perdonatemi 30 milioni di euro, 60 miliardi delle vecchie e per avere un lavoro che risulta attualmente incompiuto. Il Movimento 5 Stelle ha la caratteristica di verificare ogni cantiere, ogni tipo di attività che dovrà essere svolta e verifica soprattutto i costi e benefici di una gestione. Quando vengono spesi i soldi dell'erario comunque bisogna dare conto ai cittadini. Non si può pensare più di spendere dei soldi senza considerare quelli che sono i riverberi all'interno di una comunità, di una regione, dello Stato. Quindi cosa è successo? Questa bretella, diciamo che avrebbe dovuto creare un bypass al traffico di cardito, attualmente è bloccata a causa di tutta una serie di vertenze e di contenziosi che sono creati tra la prima ditta incaricata, la seconda ditta e la provincia. Quindi attualmente c'è un grosso stallo e difficilmente si potranno trovare delle soluzioni immediate se non una soluzione a breve e medio termine che sarebbe quella di creare un piccolo bypass che andrebbe poi dalla rotonda dell'incontro fino alla rotonda dove si trova praticamente la deco cardito. Questa sarebbe la soluzione a breve e medio termine perché anche qui ci sarebbero tutta una serie di questioni da affrontare con coloro i quali hanno dei patrimoni immobiliari, terreni e quant'altro in quella zona. Quella più semplice sembrerebbe quella delle due rotonde con l'uscita a sinistra che andrebbero a essere posizionate appunto davanti all'incontro e davanti al cardito. Questa potrebbe essere la soluzione più immediata, più veloce per cercare di venire incontro a quelle che sono le esigenze del traffico. Certo è che il problema ambientale esiste in tutta la sua valenza, è chiaro che ci sarà un problema ambientale però attualmente il traffico così come è congestionato con l'immissione di, come dire, con la presenza continua di macchine quindi con l'inguinamento legato all'utilizzo continuo di autovetture, comunque certo non fa bene ai commercianti alle persone che, in quali avventori dei negozi, che si troverebbero comunque in ogni caso imbrigliati in una situazione di grande inquinamento con la difficoltà anche di portare dei bambini, la possibilità di poter fare una passeggiata. Quindi bypassare in parte questa zona o creare delle rotonde comunque in qualche modo renderebbe un po' più libera la circolazione che non verrebbe più strozzata. Proprio sul problema dell'inquinamento lei ha affermato di voler installare delle centraline di rilevamento dei parametri dell'aria dove intendete installarle? E soprattutto nel caso in cui misurando l'inquinamento di Cardito dovesse rendersi necessario un blocco del traffico quale sarebbe la soluzione alla chiusura di una strada di importanza fondamentale senza cui non è possibile arrivare a Grotta Minarda e dunque al casello autostradale? Le centraline dovrebbero essere posizionate sicuramente in tante zone, non soltanto nella zona di Cardito. Il problema delle centraline era un problema legato soprattutto per la verifica del tasso di inquinamento nella zona di difesa grande. Quindi la possibilità di poterle mettere anche l'ingresso e l'uscita del paese potrebbe avere anche quello un senso perché andrebbe a verificare di volta in volta il grado e il tasso di inquinamento nella zona. Certo è che se dovessimo arrivare a livelli paradossali di città industrializzate come Milano, come Torino dove è chiaro che il traffico lì raggiunge livelli esponenziali e dove si unisce anche il problema legato agli effetti climatici quali la nebbia o altri aspetti climatici che vanno a influire anche sull'aspetto dell'inquinamento è chiaro che bisognerebbe anche nelle nostre zone pensare a un utilizzo più razionale delle autovetture e quindi perché no, nei casi proprio estremi, ma non credo che sia il caso di Ariano ricorrere anche all'utilizzo delle targhe alterne, ma presumo che la risoluzione di queste varianti così come abbiamo prima accennato, potrebbero in qualche modo rendere sicuramente il traffico più fruibile e questi fenomeni di inquinamento sicuramente credo che siano un fatto piuttosto remoto che non dovremmo in qualche modo dover affrontare. In relazione alla discarica di difesa grande, cosa avete in mente? Un altro problema di Ariano è sicuramente difesa grande, è un po' come il traffico di cardito è un'altra forma di inquinamento molto più pregnante molto più pregnante perché ha in ogni caso reso quasi invivibili quelle zone lasciate a se stesse, non voglio dire che siamo quasi come la terra dei fuochi però è davvero sta diventando una situazione difficile e insopportabile per le persone che vivono in quelle zone quelle zone sono detti all'agricoltura, alla pastorizia, all'allevamento del bestiame e tutto questo non ha fatto bene sicuramente a quelle zone il problema è che si è fatto, 5 mesi fa circa l'ARPAC ha fatto una verifica verificando che una falda acquifera è abbastanza inquinata dando delle indicazioni circa delle idee di un'ipotesi di correlazione circa il collegamento tra la discarica e queste falde acquifere inquinate solo che si parla sempre di ipotesi di correlazione l'ipotesi di correlazione anche da un punto di vista legale non determina e legittima un intervento anche da parte della procura per fare degli accertamenti e capire come stanno le cose quindi occorrebbero delle prove queste prove però non riescono a essere in qualche modo fornite perché c'è un rimpallo di responsabilità tra la provincia, la regione e il comune quindi ognuno ritiene che sia l'altro a doversi interessare della vicenda fatto sta che la situazione rimane stagnante e il problema non viene assolutamente risolto questo è un grosso problema tra l'altro laddove non dovessimo arrivare a accertare il grado di inquinamento delle falde acquifere del terreno ci sarebbe sicuramente un ulteriore sversamento di rifiuti e questi rifiuti che andrebbero a coprire i volumi lasciati ancora liberi della discarica ingenererebbero altri sversamenti e probabilmente ci sarebbe addirittura poi una chiusura con del cemento in maniera come se fosse una grande tomba di rifiuti che indegittimerebbero la impossibilità definitiva di poter mettere mano alla bonifica di questa zona laddove ci fossero invece delle responsabilità che noi come Medici 5 Stelle andremo ad appurare perché laddove nessuno degli enti preposti in qualche modo darà delle risposte esaustive daremo la parola alle procure a quel punto là non avremo altra possibilità che rivolgerci alla procura con accertamento ai crisi di ufficio che siano al di fuori di ogni logica politica in modo tale da stabilire definitivamente di chi sia la responsabilità l'asidev non si può in qualche modo esimere dalla responsabilità e laddove l'inquinamento dovesse essere accertato in tutta la sua pericolosità chiederemo conto e ragione con tutti gli interventi del caso per mettere a posto la discarica Ha un minuto per convincere gli arianesi a sostenerla Sì, un minuto è abbondante penso che sia abbondante servirebbe molto meno allora io invito i miei concittadini a sposare il progetto del Movimento 5 Stelle perché le persone che vogliono portare avanti gli interessi dei cittadini sono persone che hanno a cuore i cittadini sono onesti, sono trasparenti non hanno sovrastrutture lavorano senza padrini, senza padroni nell'interesse esclusivo delle persone Ariano Irpino merita molto di più di quello che hanno avuto fino adesso scenderemo in campo con tutte le forze politiche abbiamo alle spalle senatori, deputati, consiglieri regionali persone che hanno competenze e specificità in ogni settore della pubblica amministrazione e credo che avere la possibilità di ricorrere a persone che abbiano le competenze e le capacità e la forza politica di stare vicino a un'amministrazione che in questo caso mi auguro sia del Movimento 5 Stelle che le sinergie e la possibilità di rendere e portare il nostro paese all'immortalità Avvocato, la ringraziamo per essere stato in nostra compagnia e la auguriamo buon lavoro Grazie anche a voi Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!